Benvenuti a tutti, benvenuti a questo compleanno, questi 25 anni di self-food in Italia e 55 anni di self-food nel mondo. Una sala meravigliosa, grazie veramente di cuore a tutti voi di essere qua, di aver accettato l'invito della vostra partecipazione, della passione che abbiamo visto già ieri durante il corso di alta formazione, il corso di formazione sulla tecnologia S-Drive, veramente abbiamo iniziato in modo meraviglioso, quindi grazie a tutti i relatori di ieri e grazie fin da ora a tutti i relatori di oggi, amici straordinari, persone che guidano con l'esempio. Questo evento dalla cellula alla longevità in realtà pensate, è nato con un titolo che era dalla cellula all'anima, non so se voi, poi qualche vostro collega, ah voi parlate di anima, siete, allora, per, ha detto va bene, facciamo una cosa un po' più normale, perché bisogna essere normali, non si può essere folli in questo mondo, però siamo folli, qua siamo molto folli, ve lo assicuro. Nel senso che, dire la verità, eh? Bravo. E permettetemi di ringraziare tante persone, tutti i relatori lo farò dopo uno a uno, però volevo ringraziare Andrea Arnica Ingros con tutti i suoi collaboratori, eh, Upainok, eh, Monica Grant, Giovanna Barbato, Ilaria Carignola, scusate, Stefano, eh, Ferrarini, Mattia Franzoni, Monica Camozzi per la comunicazione, Maurizio Ballaron, Gabriele e Roberto Valenti, insomma, grazie veramente di cuore. E sicuramente grazie alla mia famiglia, perché sennò non sarebbe... Grazie veramente di cuore. E iniziamo con una introduzione su questo meraviglioso evento e compreanno. La rivoluzione genetica Dalla cellula alla nocività Ossigeno per la vita Senfuglio 55 anni nel mondo 25 anni in Italia Migliaia di congressi 100.000 chilometri all'anno Corsi di formazione Corsi scientifici Scuole di alta formazione Con 5 università indipendenti E piuttosto La rivoluzione in più giuridica Sapute e niente Informazione e prevenzione Una sola missione Aiutare i dati A rivoluzione E più in un numero Senfuglio Un pass per il benessere Non capisco Grazie di cuore a tutti Per il suo fatto L'unico scientifico E la financia Per tutti questi anni Benvenuti Grazie Beh in realtà Self food è veramente ossigeno per la vita È qualcosa di meraviglioso È nato Pensate Negli anni 40 Dalla Everett story La formula Everett story E È nato Dall'intuizione Di questo grande Scienziato Che lavorava al progetto Manhattan E ideò Una serie Una sorta di Antidoto alle radiazioni E utilizzò Un principio Un principio Che veniva Dall'applicazione Del solfato di deuterio Messo A fermentare Con Le alghe E pensate Che questo processo Richiede dai 6 ai 9 mesi È venuto fuori Questo straordinario Nutraceutico Self food In grado Proprio Di liberare Ossigeno e idrogeno Allo stato nascente E In realtà È stato molto Combattuto Questo prodotto Come tutte le cose che funzionano Non è semplice Mettere sul mercato E Fino all'85 Era coperto da segreto militare E E poi Finalmente È stato Liberalizzato E dal 94 È stato messo Sul commercio Dalla Dutra California E poi Che è diventata Per la distribuzione Nushens Corporation Self food Cos'è? È un'integratura Antiossidante A base di ossigeno Organizzamenti Amminoacidi Più venduto al mondo Non c'è Un prodotto Che può essere Paragonato A self food Anche se Vi racconteranno Questo è uguale a self food Voi chiedete sempre Mettimo per iscritto E firmalo Chiedete questo Se è uguale Me lo firmi No? Se io ti dico che Sono uguale a te Io devo firmare Sono uguale a te Ho bisogno della carta d'identità Fatevelo firmare Se qualcuno vi dice E poi mandatemi la firma E la dichiarazione Self food non scade Se voi vedete la vocetta Si è scritto 10 anni Non scade Anzi Migliore Si potenzia Con gli anni La Nushens Corporation A Lancaster In California Produce il self food In realtà Iniziato nel 69 Nel 2024 Adesso facciamo i 55 anni È stato L'azienda è la prima Al mondo Pensate che fanno 6-7 milioni Di self food Solo in Cina È il primo Al mondo Sugli integratori alimentari Avete un sito Self food.it Dove potete leggere Tutta la storia In maniera in dettaglio In Italia Lo raccontavo ieri Arrivato dopo un'esperienza Mia personale Di un incidente Abbastanza grave Utilizzando questo prodotto Ho migliorato la mia qualità Dalla vita E quindi ho deciso di Divulgarlo Dal niente Partendo da un sogno Aiutare gli altri a vivere meglio Non c'era niente 25 anni fa Non c'era niente Solo un sogno La voglia di aiutare le persone A vivere meglio e basta Quando dico che vivevo in una casa Di 40 metri quadrati Senza acqua calda E riscaldamento Le persone non ci credono È così Perché decisi Di lasciare un posto fisso Per cambiare la mia vita E non potevo andare Certo A farmi mantenere Dai miei genitori Chiaro E da lì è iniziato tutto 100.000 km all'anno Che avete visto nella presentazione Sono quelli che Ho fatto per Circa 20 anni E ancora adesso Ne faccio tanti Ma questi Per passione E la passione Non la puoi fermare È in 100 Pensate Nel 98 Era in 5 paesi Oggi è In 120 paesi nel mondo Perché si distingue? Beh In realtà È geniale Perché funziona Ha una combinazione Di polo E di base Che usa la fissione È una cosa Unica al mondo In realtà Selfwood È un'equazione Elettromagnetica Quindi lavora anche Da un punto di vista Biofisico Professor Ventura Tecnologia V-basica Edipolare Ha questa Grande capacità Grazie al solfato Di Deuterio Di proprio agire Di proprio agire Sulla molecola Dell'acqua E quindi Si distribuisce In un modo Dipolare Un atomo Con distribuzione Asimmetrica Di elettroni Legati a un legame Ionico Quindi gli elettroni Non sono sempre Distribuiti equamente Tra due atomi di legame Voi che siete esperti Di questo Magari Ne sapete più di me E può esercitare più Una forza sulla nube elettronica Rispetto all'altro Questa forza viene chiamata Elettronegatività Una Non equa Divisione di elettroni All'interno di un legame Porta alla formazione Di un dipolo elettrico Separazione di carica elettrica Positiva E negativa Cosa fa Selfwood? Usa la molecola dell'acqua Quindi Poiché l'ossigeno È più elettrogativo Dell'idrogeno Gli elettroni Tendono a distribuirsi Intorno all'idrogeno Gli atomi di idrogeno Presenteranno Una carica Parzialmente positiva Gli atomi di ossigeno Una carica Parzialmente negativa Questa separazione di carica Produce un netto momento Dipolare sulla molecola La generalità Di Everett e Stori Qual è stata? Di unire E combinare Bibasici Dipolari E fissione E questo È Per chi Sempre ha detto Ah ma no Ma non è vero No la formula delle storie Le solite cose Tu dici una cosa E c'è sempre qualcuno Che dice il contrario Io non sono in Italia Senza avere nessuna competenza Questo è il brevetto Di Selfwood depositato Però è una formula di proprietà Perché Se no scadono i brevetti E quindi Nessuno sa Come riescono a farlo Mi perdoneranno Sia Mauro Che Eugenio Ma Questo è quello Che viene spiegato Da Da sempre È una modalità Esplicativa Però è molto più complicato Da La Nuscience Corporation Selfwood Prende la molecola Dell'acqua Carica negativamente L'ossigeno Per una sorta D'equazione elettromagnetica Si lega Ai radicali liberi E Forma Ossigeno Quindi fa un'azione Antiossidante E Riossigena Le cellule E E E Questo Me l'ha regalato il grande Eugenio Quindi Grazie Questo proprio Ci permette proprio di lavorare sulla carenza di ossigeno L'assidosi Poi lo vedrete dopo comunque dalle relazioni Con una capacità Pensate Antiossidante 30 volte più potente del plasma umano È un modulatore È un modulatore È un modulatore Fisiologico Della domanda di ossigeno On demand A livello cellulare E quindi 25 anni Guardate le realtà di Cell Food Forse non conoscete il nome New Science Ma sicuramente conoscete Cell Food Da 55 anni Cell Food è l'integratore nutrizionale antiossidante A base di ossigeno più venduto al mondo Oggi abbiamo l'opportunità esclusiva Per dare uno sguardo a questo colosso biotecnologico A nord di Los Angeles Questa è la sede di ricerca e produzione di Cell Food Per la prima volta in assoluto Le nostre telecamere possono entrare in questa struttura risortata Sono Kitty Sammy E ci guiderà nella visita il presidente dell'azienda Terri Neiret Grazie per averci concesso questa intervista E questa visita alla New Science Corporation Ma perché proprio ora? Abbiamo ricevuto richieste dai media per oltre 15 anni E questa concessione coincide con l'inaugurazione Del nostro nuovo laboratorio Questa struttura è straordinaria Per la prima volta questo laboratorio Produce 250 bottiglie di Cell Food Ogni singolo minuto Tutti i giorni È incredibile Oltre a progettare questo nuovo impianto di produzione A alta velocità Abbiamo anche introdotto tutti i controlli di qualità specifici Che garantiscono il 100% di accuratezza del processo È una novità assoluta per il nostro settore E ne siamo davvero entusiasti I nostri macchinari sono stati realizzati a mano in Italia E sono per i macchinari più eleganti Che si possono vedere nel settore Può raccontarci qualcosa di più sul processo con questi nuovi macchinari? I controlli di qualità che abbiamo implementato Sono lungi e senza precedenti È la prima volta che vediamo qualcosa del genere Utilizziamo strumenti come i laser a infrarossi Che rilevano i componenti aggiunti a ogni prodotto Usiamo dei bilanci di precisione Per misturare il peso e il volume del prodotto E ci sono stati molto interessanti Come una macchina a raggi X Che l'elite con il liquido Si è riempito praticamente dentro ogni attività Usiamo una tecnologia dell'ultima generazione Di cui siamo un mondo Molto innovazione Come si confronta la produzione attuale Grazie ai nuovi macchinari con i numeri precedenti? Siamo cresciuti molto con le organizzazioni Il nostro primo laboratorio Aperto molti anni fa Produceva circa 10-15 flaconi al minuto Era una tecnologia abbastanza semplice all'epoca Poi siamo passati al nostro primo grande impianto di produzione Dove producevamo circa 75 flaconi al minuto Ora siamo passati a 250 flaconi al minuto Un passaggio straordinario Molte aziende hanno ridotto le dimensioni O sono addirittura fallite a causa della crisi economica globale Ma New Science si è in spanza Come ci siamo riusciti? L'industria biotecnologica E quella degli integratori tradizionali nel complesso Hanno sofferto durante la crisi economica Praticamente tutti hanno subito venderti E per quanto mi piacerebbe Prendere il merito della nostra crescita Due cifre ogni anno La verità è che i nostri partner commerciali globali La nostra famiglia Self Food Sono i veri responsabili Non ci siamo riusciti Non ci siamo riusciti Senza questi sforzi Self Food non sarebbe dove è oggi E ne siamo davvero grandi La nostra crescita Senza ostacoli Sembra quasi impossibile Come gestisce la situazione? Abbiamo ancora due sfide La nostra sfida più grande E' ancora rappresentata dai prodotti negativi e contraffatti Facciamo molto per combattere questo fenomeno Di recente abbiamo acquistato un impianto per la produzione dei faconi Ed ora riproduciamo internamente per tutti i prodotti Self Food Abbiamo riprogettato ogni stampo I morti sull'unice e presso di Marche Self Food Aiutando così i consumatori a verificare la felicità Abbiamo investito molto tempo e denaro nel perseguire questi criminali E continueremo a farlo I leader dell'industria della salute Dicono che l'inversione è la forma più sincera di adulazione Ma non è così In realtà è estremamente pericolosa Spesso il pubblico viene incarnato nell'acquistare un prodotto inferiore o contraffatto E rendo a rischio la propria salute senza nemmeno sapere Ancora una volta la ringrazio Dottor Negrete Per averci concesso questo raro sguardo all'interno della New Science Corporation E per averci mostrato i vantaggi di Self Food e il supporto fornito dai vostri partner Self Food è prodotto esclusivamente dalla New Science Corporation Registrata FDA e certificata GMP con sede qui a Los Angeles Da Keith Sammy è tutto Grazie E Self Food oggi ho avuto, insomma oggi da qualche anno, ho avuto il grande onore e grazie a Kevin e Grette di importare direttamente il bulk e confezionarlo qui in Italia Quindi cosa che non hanno mai fatto al mondo Self Food devo dire grazie a grande Mario Che è sempre geniale su questo che l'ha battezzato un pass per il benessere Grazie Mario, Mario e Mario Mariani Quindi ha cronato questo pass per il benessere Il pool antiossidante sinergico e sistemico Beh, in realtà è veramente straordinario Ci sono, come sapete, tanti prodotti della linea Self Food Self Food è un carrier, poi lo vedremo È un trasportatore, quindi possiamo mettere nel carrier, in questo trasportatore Tutti gli altri prodotti, no? Il silicio colloidale, le vitamine, minerali, eccetera E quindi ecco perché ci sono queste formulazioni o spray o sublinguali Che arrivano fino al 90% di biodisponibilità a livello cellulare Perché vengono assimilate a livello mucosale e perlinguale È un vantaggio enorme perché bypassiamo il fegato E questa è la linea Vi lascio con questo messaggio perché stiamo lavorando a un progetto importante Della scuola di alta formazione e quindi ve lo faccio dire da lui La più grande possibilità che abbiamo è quella di condividere Non solo sapienza, esperienza, ma anche conoscenza Ecco che da 5 anni ormai mettiamo a disposizione dei liberi professionisti Della professione medica, dei nutrizionisti, degli operatori sanitari Una delle scuole più interessanti per l'approfondimento, la formazione Ma soprattutto per l'aggiornamento meglio scientifico Questa scuola su un'ultratermica, epigenetica, biotidica e nutrizione Parte dal presupposto di colmare quei capi che va dall'università alla pratica clinica Ecco per noi con questa scuola di alta formazione possiamo veramente fare una grandissima differenza Per formare, creare cultura, ma soprattutto per dare quelle informazioni Che ci permettono, che poi permetteranno al professionista Un approccio clinico integrato, centrato, mirato sulla persona Scuola di alta formazione parte il 14-15 ottobre Vi lascio con questo messaggio Nulla è possibile senza un sogno Nulla accade se prima non si sogna Ma ancora di più, nulla ha senso senza l'amore L'amore apre qualsiasi cosa Ma bisogna partire da noi stessi Essere di esempio Grazie di cuore a tutti Applausi Grazie 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 Grazie